La truppa di Giampiero Ventura è pronta per partire alla volta di Bormio. Stamattina, all'Art Hotel Boston, i giocatori hanno preparato i propri bagagli e sono saliti sul pullman. Il primo di tutti è stato il terzino Danilo D'Ambrosio e poi a seguire tutti gli altri, tra cui i giovani parigini Aramu e il nuovo acquisto Granata, arrivato giusto ieri sera nel capoluogo torinese Ciro Immobile. Unici assenti, giustificati, sono il portiere Gillet per via di un problema fisico e l'esterno Alessio Cerci ancora in vacanza a causa degli impegni estivi con la Nazionale alla Confederations Cup. Una volta saliti tutti, il torpedone Granata ha chiuso le porte ed è partito. Il prossimo appuntamento sarà per oggi pomeriggio alle ore 17, col primo allenamento in quel di Bormio. Ovviamente potrete seguirlo qui su TN, hashtag TN in ritiro.